Grazie a tutti. 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 Non abbiamo di questi problemi. Ecco gli aguzzini, loro sono il direttore del centro della cooperativa che serve. Loro sono i primi torturati. Loro sono i torturati, noi siamo i secondi. Già meno perché insomma... Marco, noi siamo i secondi torturati perché questi che vivono qui dentro stanno peggio degli altri. Allora noi siamo praticamente entrati, stiamo con il dottor Improta insieme a tutto lo staff della prefettura e qui della direzione. E tu mi avevi detto che forse c'era anche Paola Dell'Ansa che chiedeva di entrare con noi. Buongiorno. Ma tu l'hai vista Rocco? No. Fuori? No. La sta chiamando Rocco? Senti allora io ho lasciato detto che tu arrivi, tu a che punto stai? Salute a posto, grazie per quello che hai fatto con noi. Ah ecco, qui arriverai con un po' di ritardo. Va bene, lasciamo detto, tu praticamente arrivi con la macchina davanti al cancello grigio. È un po' complicato, è te lo dico, devi cercare via Chiodi. Di fronte alla fiera di Roma nuova, via Chiodi, c'è una strada laterale quando vedi un addosso complesso, ma magari chi entra qui dentro, non è che entra e poi si abbandona. Entro 48 ore dall'ingresso sul decreto, a firma del prefetto, a firma del prefetto il decreto di espulsione, il trattenimento a firma del questore con il suo funzionario delegato, viene vagliato dal giudice di pace che valuta se qui il trattenimento è fatto correttamente oppure no. Poi la scadenza dei termini di trattenimento si passa... I termini quali sono? I termini, attenzione, attenzione, ricasca l'assino. In teoria dovrebbero essere per legge, che questa legge poi ha subito modifiche, ci sono stati da 30, 60, siamo arrivati ad un'ipotetica permanenza di 18 anni registrata perché mai nessuno abbiamo trasformato oltre, devo dirlo, ma tanto non ho paura di dirlo anche perché non è un problema, abbiamo iniziato anche a ridurre l'iniziativa, le presenze e questo è un fatto che crea danni, a chi a suo tempo facendo la gara per la gestione della parte sanitaria e logistica interna dice venite pagati in base alle presenze. Un tempo la Croce Rossa veniva pagata vota per pieno, nel senso che i bossi sono totali maschi o femmini 360, lo Stato paga per 360, poi se ce ne stanno 10, 15 o 20, loro fanno la gara per 360 ma vuoi per questione di sicurezza perché tenere 160 maschietti di là in un posto che ormai è come le rovine di Pompei, adesso lo vedrete perché facciamo i tour guidati e la comunità europea ha inserito, l'Unione Europea, la Romania per cui le ragazze che prima erano extracomunitari, detti della prostituzione, insomma alla fine il totale che noi abbiamo sono 68 maschi e 51 femminucce, quindi per un totale di 68, 70, 123 persone su una possibilità potenzialità del centro di 360 posti e quindi ci rimette sono loro che comunque dovrebbero anzi mantengono l'assetto di volontari medici ausiliari nonostante sulla base di quello che non gli entra, anche economico per loro che vengono pagati per 120, mantengono a spese loro lo standard di qualità dei 360, quindi stanno in perdita chiaramente perché questi soldi non li paga nessuno. In tutto questo poi abbiamo circa una quindicina, ventinaia di persone che hanno richiesto asilo politico tra questi presenti all'interno, per cui cambia poi la competenza che non è più giugno di pace sulla proroga ma si va al giugno ordinario e rimangono qua? Sì, in attesa, in attesa. Ma con il ritmo del ritmo? No, stiamo accelerando perché abbiamo preteso dalla prefettura che la prefettura intervenisse sulla commissione territoriale del ministero dell'interno che i trattenuti vengono fatti prima, le audizioni vengono fatte prima, le audizioni rispetto agli altri. La priorità? La priorità perché sennò diventa una cosa... Appunto quello stavo pensando. E poi c'è un passaggio che è fondamentale, il mancato riconoscimento certo dei detenuti fine pena. Lo straniero fine pena che esce ed era clandestino all'ingresso o ha un'espulsione giudiziaria, transita per uffici di migrazione italiani e comunque poi viene collocato in un centro. Se non è stato identificato con i consolati, le ambasciate per uno, due, tre, quattro, cinque, otto anni di detenzione, come posso farlo io in 30, 60, 90, 120? Perché non si fa prima. Esatto. La legge lo prevede. Perché non si fa prima. La legge lo prevede. Ma il ministero del giustizio e la polizia penitenziata dovrebbero avere gli stessi canali nostri. C'è un progetto per fare questo. Ma questo progetto con chi lo facciamo? Aspettiamo che si progetti qualche altra cosa. Nel frattempo noi andiamo con i giusti di pace, non dico in autonomia, ma su una norma che è quella del buon senso. Perché se non si riescono a riconoscere, entro tre mesi, ordine di allontanamento, giovanotto battene con i pieditori, però è il cane che si morde la coda perché quello dice non ho il passaporto per cui rientra in un circuito. Il problema dell'immigrazione è questo. C'è lo straniero che entra e butta i documenti non è riconoscibile o non è. Nessun consolato ci dice mio. Con i tunisini va bene, con il Marocco va bene, con l'Egitto abbastanza, con la Nigeria abbastanza, ma tutto il resto rientra in un circuito non facilmente. Con il Marocco va bene, con l'Egitto abbastanza bene, la Tunisia. Adesso vi spiego, giudice buon lavoro. Grazie. Gli incidenti? Ci sono stati degli incidenti a febbraio. 18 febbraio. Abbastanza gravi. Eh beh, adesso vedrete cosa è rimasto fuori, cosa è rimasto in piedi. Cioè abbiamo i due terzi della dell'incinanza passiva delle camere con queste bruciate e distritte. Quelli che devono essere pannelli di contenimento in IFU qui si sono squagliati, termoresistenti. Quelli che devono essere materassi classe A sono andati in fumo in un attimo e mezzo. Significo anche questo. E' certo. Quindi fatti bene, bene, bene questi lavori fatti a suo tempo, perfetti. Lascia fa' perché ho scritto. Appunto. Ho detto mi dite un attimo la prefettura che è in difficoltà come noi. Certo. Come mai tutto quello doveva essere? No vabbè, però mi ha chiarito che inerte come sono i materassi non significa che con 40 minuti di sottoposizione al fuoco. Comunque. Questo è il problema. Qui ci sono dei criteri da seguire per fare queste misure passive. Certo, se fossero gli altiformi dell'inva capiscono. Certo. Certo. Dicevo le misure passive. Poi lì fu... Poi lì fu... Il giorno è stato anche un giorno particolare. Certo. Sono gli identificati per anni? No. Sono quelli che hanno avuto con nanni per reati gravissimi. Perché poi c'è stata una sorta di scelta di campo. Cioè lavorare su chi ha commesso reati e non ha rispettato le leggi. quanto nelle nostre leggi perché abbiamo grossi traffici superfacenti, violenze sessuali, violenze ma è in danno di mogli, figli perché poi sono sul vento. Ma noi ci arriviamo a tutta Italia, anche poi non siamo noi. Cioè io a Roma come immigrazione sono il terminale di tutte le forze dell'ordine che lavorano sul territorio. Per cui polizia, carabinieri, finanza, vici urbani, tutti gli stagneri che fermano per controlli poi li portano da noi. Noi facciamo i controlli sui requisiti soggettivi, sulla regolarità o meno, dove ci sono irregolarità amministrative sulla presenza nel territorio in base alla tipologia dei requisiti mancanti o di quel poco che hanno individuiamo la soluzione. Cioè se si fa l'espulsione con l'ordine vai via o se si fa l'espulsione con il trattenimento rimane. Ma questo mi auto esercito io in una forma di decisione su Roma. Quindi l'amministrazione ha su questi compiti debordanti, non per provata scelta. Usciamo fuori e dobbiamo andare a interpretare il diritto amministrativo, è che poi siamo in termini di diritto amministrativo e usando le regole del buon senso e della logica. Anche perché per iscritto ci sta un testo unico ma insomma diventa complicato poi seguire le linee guida. D'altra parte poi tutte le città italiane, le città in tutto e passa province italiane, hanno una questora, quindi hanno analoghi uffici immigrazione, ma non tutti hanno i CIE nella regione. Per cui poi fanno riferimento al Ministero dell'Interno, il Dipartimento PS, la Direzione Centrale per l'Immigrazione, che gestisce i posti nei centri dove sono lì. Ma può capitare che se io a Roma stasera mi portano 10 stranieri, io dovrei chiedere al Ministero i posti. Il Ministero sa che io qui non ho più posti, ci fai a Caltanissetta perché ci stanno 10 posti libri. Però poi c'è tutto un fatto di valutazione in termini di presenza di uomini, di sforzo economico, di accompagnamento. Allora noi cerchiamo di muoverci abbastanza in autonomia. L'accompagnamento in genere? L'accompagnamento lo facciamo sempre noi. Noi? Sì, sì, sì. No vabbè, pensavo. Quando si parte poi per l'impatriato... Non si fa fra i carceri... No, 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 facciamo noi. Quando poi c'è l'identificazione certa dello straniero con il riconoscimento dell'ambasciata di appartenenza e ci danno i passaporti e lo lascia passare, poi se sono persone pericolose che hanno già manifestato la non volontà di rientrare in patria, li accompagniamo con voli di linea. Per cui saranno sempre due o tre poliziotti che fanno questo... Scortisti. ...si viaggi in tutto il mondo. Ma io, infatti, addirittura per... Non mi fa se per turni io per il Marocco due volte mi è capitato. Con gli scontisti. D'altra parte qui la vita è quella che è anche per i funzionari di polizia, il personale di polizia dell'esercito, che poi qua io ho un interforze dove ho i poliziotti, i carabinieri, i finanzieri e l'esercito che ci danno una mano. Ma non che noi ci fermiamo là, quella porta là. Capito? Noi abbiamo il controllo perimetrale. C'è un problema che la polizia è peritenziata? Assolutamente no. Assolutamente no. Siamo solo noi. Noi abbiamo competenza fino a quella porta. Perché qui abbiamo l'aula del giudice che tutti i giorni fa le convalide, le proroghe e quant'altro. Loro da quella porta hanno la gestione della parte medico-sanitaria. Abbiamo messo ormai da tempo nei loro corridoi per tutelare i medici, i volontari, perché poi abbiamo anche problematiche di tossicodipendenza seria, di provenienza dal carcere con quelle che possono essere sintomatologie nervose a cui poi devono far fronte. Il medico quando arriva allo straniero deve valutare se è compatibile o meno con il trattenimento, per cui c'è tutta una visita che viene fatta. E ho due punti di controllo con i carabinieri che abbiamo, che stanno lì in caso di necessità vengono chiamati, ma noi non entriamo dentro a fare. Solo se c'è confusione e bisogna cercare di portare l'ordine pubblico. Ecco, se pensiamo che dove la situazione, almeno strutturalmente, è in crisi per è, ma esiste quello che succede quando accompagniamo la prima notte, il primo buonasera, anche nelle carceri normali con servizi, psicologi e tutte le cose, credo di capire. Però è una situazione diversa perché c'è un problema, che in carcere loro hanno poi delle attività sociali, interne, se capitano a Padova forse sono più pronti e preparati. E dipende qua da Padova. Esatto. Delle due. Qui loro non sanno cosa fare tutti i giorni. Cioè la giornata la passano, nonostante gli sforzi di Auxilium, nel non fare niente. Cioè i tempi vengono scanditi dalla colazione, dal pranzo e dalla cena. O dagli incontri con i parenti che sono sempre autorizzati. La corrispondenza dell'aria esiste. Che significa corrispondenza dell'aria? È tutta aperta. No, è tutta aperta. Non sono dentro le celle. No, qui la sera si vivono soltanto altri settori. No, adesso vedrà, sì, è molto bello. No, adesso vedrà, vedrà, è diverso. Delle camerate da sei ore. È un grosso cortile cementificato. Quello che appunto non lo sapevamo. Poi di fatto è quello che stanno chiedendo anche di là. Quando sono stati l'incidente è successo che quella mattina un cittadino nigeriano doveva essere accompagnato in patria. Ha fatto forza e resistenza. Il personale lo ha preso con la forza. Gli altri si sono innervositi. Quindi è stata un'aggressione ai corrispondi. Che hanno fatto l'ira di più. È successo, è successo. Sì, una durata, mezza giornata. È una mezza giornata. Alla fine abbiamo restato otto di loro e in carcere sono ancora cinque che la Procura di Roma ha ritenuto che fossero perché poi sono stati... Tre degli otto hanno ammesso i fatti ma nel senso che siamo stati messi... Cioè hanno raccontato qual era la situazione per cui anche il CIP ha ritenuto di dover mettere la misura cautelare per questi cinque pericolosi che si sono resi veramente... Da quel momento in poi abbiamo ridotto il numero delle presenze abbiamo ribadriato parecchia gente non ho fatto mettere nessuno discutendo anche con il Ministero che dico non posso aggiungere altri trattenuti e non ho le condizioni di sicurezza. In 2018 c'era stato... Sì! C'era stato... Sì! Così importanti gli ultimi dell'anno scorso. Noi a 2011... Noi a 2011... C'era stato anche uno sciopero della fame di alcuni... Mezza giornata... Là poi ci sta il problema che quando abbiamo i tunisini marocchini e algerini insieme fanno fronte e si mettono contro quelli... Loro li definiscono i neri che sarebbero i nigeriani fra di loro sono razzisti per cui... Cioè non è facile la convivenza non è che ho le stanze divise per provenienza geografica né per religione perché poi abbiamo tanti nigeriani che sono cristiani cattolici loro sono... Loro qui hanno la chiesa e hanno la piccola moschea però ecco... Noi riusciamo a convivere bene loro più che altro con provenienti sariani e la città stessa però poi quando sono tanti i giovani magrebini che sono tutti giovani diventa rifiuti Dottor posso fare una domanda che si può regalare? Sì sì... Quando ci sono delle iniziature non violente a qualcuno che ci ha il cielo ci sono delle segnalazioni al ministero? Come no? Loro ci fanno la comunicazione che sono quelli che gestiscono la... come si chiamano? La mensa Noi prendiamo atto la Prefettura viene informata dopodiché noi cerchiamo di capire qual è il problema il problema può essere non mi piace la pasta non mi piace la carne non mi piace il riso oppure se fa freddo o fa caldo hanno fatto a novembre dell'anno scorso qualche giorno di sciopero quando è iniziato il freddo vero e ci sono assunti la responsabilità con la Prefettura di far fare dei lavori senza far fare gare ho detto qua bisogna mettere a posto il riscaldamento e l'applicato due igiene, docce e questa roba qua? tutto nelle stanzi sono camerate da 8 adesso andiamo a vedere ogni camerata ha due servizi due docce e due... cioè non è una cosa semplice non è assolutamente una cosa semplice perché poi la struttura carceraria ha un codice una gestione diversa noi siamo... qui allora se mi dite c'è la camerata di 8 con le distendenze proprie invece delle carceri hanno fatto un corrido però c'è un problema dell'ipocrisia legislativa perché loro sono ospiti cioè sulla carta loro sono ospiti l'ipocrisia sta... però questa è la norma capito? ci sono 7 anni che dirigo l'immigrazione ci sono 7 anni che... l'assistente sanitario è la competenza della regione la regione e loro fanno riferimento la regione interviene come? l'assistente sanitario noi siamo in un regime di protocollo rimpiesa con la regione Lazio perché all'epoca la presidente Volverini da commissaria della sanità poi nell'effettivo un protocollo operativo non è stato mai sottoscritto però se si non... vero va detto che in questi tre anni che noi siamo qui dal primo marzo non vi è stato mai un problema ma solo per la sanità la regione Lazio interviene solo per le questioni sanitarie ma non è che interviene c'è un accordo per obbligo per la sanità per la sanità per la sanità con i fondi regionali si si garante per i detenuti la regione Lazio poi è presente con dei due avvocati il mercoledì sono qui poi viene Bifri differenza donna ci sono interviste per chi ha bisogno città nigeriane in particolare vittime di tratta o di sfruttare la costruzione se intendono poi denunciare vengono presi a per pare e quindi subentano un altro meccanismo di protezione insomma cerchiamo di seguirlo quello che è e molto sulla buona volontà dei presenti poi è una convivenza anacronistica insomma per quanto riguarda prima del cibo noi abbiamo come schede ogni giorno noi già siamo in grado di senza se qualcuno lo ha manifestato siamo in grado di vedere chi non ha ritirato il pasto e generalmente passano almeno 4-5 giorni prima che va avvisato poi si fa la dieta poi hanno la dieta che durano un giorno la protezione dopo 3-4 giorni poi ci sono delle schede che vanno ortopedico cardiologo radiografia e tutto viene fatto fuori c'è qui il medico fa la prima visita il primo intervento se poi è necessario ricoverarli vengono ricoverati poi e a quel punto le diamo anche il piantolamento San Pedro Roma altro e Genova noi abbiamo Ostra qui la mente Ossia Spallanzani Forlanini Grassi di Ossia il CERT è qui di competenza perché vai guarda le persone considerate minori i minori non c'è tipo persone transessuali vengono tenute separate i transessuali qui non ci sono ah non ci sono c'era stato il progetto di farlo però poi nessuno ha messo in mano all'apertura l'amministrazione interna la problematica della gestione che era stata fatta in un settore tipo di progettato per poterlavergli qua per non portarli a Milano che solo a Milano ci sono 12 posti al centro di Milano per cui noi o facciamo il viaggio fino a Milano se ci sono i posti o se no non tratteniamo poi abbiamo soltanto separato donne da una parte e noi da una fine donne in stato di credenza non possono rimanere donne in minori non possono rimanere se abbiamo sospetto siamo meno che ho avuto altre riviste messi fuori siamo un altro tipo di di circografia si o si fa la vita endocrinologica o la radiografia alle ossa ma diciamo che in 3 anni 10 casi tra cui 1 o 2 realmente ma il risultato dopo 4 ore che stava operato siamo abbastanza autodidati o perché lo dichiaro o perché era evidente che aveva un volto troppo giovane in 3 anni sono capitati 10 di cui 2 individuati subito arrivati sabato 9 e domenica da posto e segnalati ora qui è arrivata l'ANSA no è arrivato il Tg3 ah buongiorno forse è Paola lei dell'ANSA eccola si ah meno male grazie grazie allora lui il direttore è composto da due stanze ogni stanze poi ha un luogo e poi per due uomini da ossa le donne non siano 4 sono sempre fuori tutti sono averci una giornata per un giorno alle loro spalle c'è un capo delle donne ma qui al centro con la parte o la parte Oggi quanti sono i presenti? 119, 68 uomini, 51, 51 donne e 68 uomini. Dal punto di vista religioso diciamo, di sopra Ramadan, Pasqua e Cattolica, cappellano? Allora, abbiamo Don Emanuele della Caritas che gestisce la piccola cappella inaugurata con il Vescovo di Cirovecchia e poi c'è la piccola moschea dove a fatica qualche volta è venuto anche qualche mamma. Sono stati invitati più di una volta però vengono poco. Lo gestiscono all'interno, sempre tra loro esce sempre la persona che prima lo ha salutato e con lui che si occupa. Il contatto che noi abbiamo normalmente con la moschea su, diciamo noi amministrazioni. Sono stati tanti contatti però sono stati anche invitati. Sì, credo hanno detto che sì. In un modo... Hanno detto che sì. Non so, dottoressa vogliono entrare a vedere il mobile. Sì, sì, come no, come no. Ci aprite per favore? Sì. Come no, attraverso? Come no! Allora masati, scena mamma! Fussi anche tutti vengono o lavorare a vedere l' contributorio. Allora! O cosa stanno senza? Come? Allora, come no! Come! Sono Permesso? Permesso? Come va? Come state qua? Vale? Io sono un po' italiano. Potete dire come ti chiami? Eima. Eima? Là in Marocco? Quanto tempo è che stai qui? Quattro mesi. Quattro mesi? Sì, quattro mesi. Hai dei parenti qui in Italia? Ah, parli francesi? Grazie comunque. La sentenza sì, non dico il caso. Mi sono regalore. Mi sono regalore. Mi sono regalore. Mi ha autorizzato a liveare? Io non tanto. Mi hanno autorizzato. Mi hanno riprenduto. Mi hanno comprato un pagiotto. Mi sono paglietta, un paggiotto, un paggiotto, un paggiotto. Ma guardatevi? Carta dignità, un pasciaporto di italiani, tutti. Tutti. Io sono 26 anni, 27 anni, che sto qua in Italia. E da qui quanto tempo che state qua? Io ce l'ho a ACI e io ce l'ho 12-13 giorni che sto qua. E anche lei? E anche ce l'ho a Filippini. Io sono un mese e due settimane. E' la prima volta? Sì, la prima volta, perché io ci volevo tumore, perché vado sempre, quando sono stata di fuori, ogni sei mesi che vado a fare il controllo, quanto mi ha portato qui. Cioè lei mentre faceva il controllo l'hanno portata qui? Sì. In ospedale? No, fuori, dove sono stata. Fuori dove? A casa. Lei dove c'è la casa? A Bari. E quindi lei a Bari è andata in ospedale? E poi dall'ospedale l'hanno portata qui? No, stavo a casa 10-15 giorni e sono qui mi sono portata. E' venuta la polizia a fare il controllo? Perché di la espulsione. Perché c'avevano le... La espulsione. Ma lei... C'era un'advocato. Ma lei non è mai stata in carcere? Sì, sono stata, so per la fuori. Quanti anni fa? No, quando sono stata un anno e due mesi. È stato un anno e due mesi in carcere? E' fatto la mia pena e sono uscita, Rono mi l'ha fermato e mi ha portato qui. Il mangiare com'è? Ti dico verità, riso, pasta, però non la danno. Avete l'acqua calda? Sì, la facciamo qui la doccia. Acqua calda? Sì. Ci sono delle cose che vuole segnalare. Noi siamo di un'organizzazione, il Partito Radicale, che... Che fare l'alzacalda? No, per vedere le condizioni, come state qua. Come siamo? Sei persone, stiamo in una camera, viviamo, come si può stare? Non è come casa tua, diverso. Un baino, siamo sei persone. Lei mi ha detto da molti anni che sta in Italia e poi che è successo? C'erano i miei figli nati tutti qua. Lei di dov'è? Sono a Roma, a Roma. E lei è stata in carcere anche? Sì, stavo sei mesi di là, mi hanno portato qua. Un'altra, anche lei dal carcere, vedi arrivano tutti dal carcere. Lei aveva finito di scontare la pena? Sì, sei mesi. Invece di identificarla dentro il carcere, non hanno fatto in tempo identificarla dentro il carcere e l'hanno portata qua. No, ho già fatto la pena mia in carcere, sei mesi, e dopo mi hanno portato qua. E adesso da quanti giorni è qua? No, 12 giorni, 13 giorni, come i miei figli nati tutti qua, vanno a scuola, tre bambini. Sei tutto sporcato qui? Vanno a scuola, studiano. E io non sto in un campo, sto in una casa, vivo con i miei figli. Io ho fatto il carcere, qui abbiamo un confronto. Adesso non avevo il problema. Tutte le sentite? Dicevo, noi appena arrivano, accertiamo le condizioni sanitarie. Che ci vuole anche, perché non può essere solo il farmale? No, ma lui dicevo, loro non hanno questo problema. L'hanno risolto, dicendo. Stanno ancora fuori, non entrano fino a quando noi non riusciamo. Per loro e per l'ambiente è verificabile. Grazie. 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 La calma o come dicono i radicali sono state fatte un po' di pulizia straordinaria? No, assolutamente. Non si devono fare pulizie straordinarie. La calma è tornata perché in parte il centro ha subito grossi danni e quindi molti settori sono stati chiusi per motivi di sicurezza degli ospiti e di chi ci lavora. Gli autori dei danneggiamenti e delle violenze sono ancora detenuti, il GIP ha emesso misura cautelare per 5-10 anni, i danni sono stati tanti, ma non è che oggi che c'era la stampa per noi siamo aperti. Sono tanti anni che dirigo l'ufficio immigrazione, conosco questo posto e non è che dobbiamo fare pulizia straordinaria per cui ne va apparire. Il posto è questo, lo vedete voi. Senta, qui ci sono tante storie di uomini e donne che stanno qui senza aver commesso ovviamente alcun reato, stanno qui solo perché non hanno i documenti e aspettano mesi di essere identificati. Si può in qualche modo accorciare, abbreviare i tempi di questa attesa? La legge è questa, noi siamo tenuti ad applicarla. D'altra parte noi cerchiamo di velocizzare i tempi, di lavorare sodo con i consolati, cerchiamo di valutare le singole posizioni. La storia di queste persone non deve essere necessariamente una storia criminale, perché la legge non prevede il trattenimento in un CIE, sei con i soli reali. È una questione di natura amministrativa. Si cambiano le norme e si cambia il sistema. Ci sono alcuni che vengono anche, sono tutti uomini, alcuni vengono da un passato trascorso in carcere. Non sarebbe possibile cominciare a identificarli in un momento di detenzione, quando stanno in carcere, in modo che qua sempre viano poi i tempi di permanenza? È auspicabile. In parte si fa, in parte si deve fare l'ongresso in questo centro, come negli altri centri in Italia. D'altra parte, se non si riesce a identificarli prima, si dovrà tentare di farlo dopo. Le vie amministrative, normative, gli strumenti che abbiamo sono questi. Noi cerchiamo di farlo in tempi brevissimi, per quello che può essere il termine breve, perché attendiamo i tempi dei consulati. Parliamo di immigrazione. Come risponde a una sorta di accusa che ha fatto l'Europa nei nostri confronti dell'Italia che paga 500 euro perché questi immigrati poi si spostino in altri paesi europei? Non entro nel merito delle contestazioni mosse all'Italia per quanto riguarda questo bonus, ma certamente non è un caso solo italiano quello di dare uno strumento economico di non grande... non è una grande cifra, ma certamente potrebbe consentire a chi ha avuto il riconoscimento dei motivi umanitari e il rilascio di un documento di identità che sostituisce il passaporto di poter cercare di rientrare o nei paesi di origine o comunque di non gravare per quello che è possibile sulle strutture nazionali, anche perché l'emergenza di accoglienza per gli stranieri provenienti dal Nord Africa si è chiusa il 28 febbraio con delle piccole deroghe per i minori e tutti i soggetti vulnerabili e familiari. Dottor Infrota, l'è capitato qui, anche come è capitato nelle carceri, il fenomeno delle porte girevoli, cioè le stesse persone che vi ritrovate nel tempo che avete già avuto come ospiti? Purtroppo succede, purtroppo succede ed è un fatto che registriamo, perché se si è clandestino probabilmente si rimane clandestini e si ricapita nei controlli delle autorità deputate al controllo del territorio. La dotazione economica che avete per la gestione di questo spazio del CIE, con la stessa dovete anche pagare i trasferimenti quando vengono mandati in patria questi clandestini? Noi non abbiamo un portafoglio, siamo gestiti da questo punto di vista dal Ministro dell'Interno, per cui noi rappresentiamo le esigenze e le necessità e a tutto ciò pensano altri uffici, certamente non abbiamo contabilità se non la comunicazione di quello che si fa con la documentazione di quello che è stato fatto. Grazie. 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 Grazie.